Trailer della nuova stagione, trailer del gameplay, vediamo un po'. Let's go! Non parte più, ok. Bello con i click dell'orologio. Incazzato come una bestia, che cazzo? Il portalino lì, no no no. Dado, pizza. Bella la colorazione questa qui. Lui la tram di Mila ce la porta sempre però, eh? Bella l'ambientazione nuova. Questa l'abbiamo vista. Mamma mia, quanto è forte! Bello. Non mi fa impazzire la musica? Vabbè, non è... Chissà che cosa sentiremo negli avamposti. Sei. Dei. Eccolo qua, versione mostra. No, che palle. Stavo tipo per dire, adesso chi arriva? Niente, ok. Era per giusti... Veramente Asuka ha messo all'ultimo secondo perché non sapevano come fare. Ok, ok. Ok, ok. Allora, vediamo le cose salienti che poi dopo... Aspettate che il volume però mi stava uccidendo. Allora, allora aspettate. Eccoci qui. Allora, vediamo le cose super fighe. Questi... Allora, uno... Ci sono, da quello che abbiamo capito, tre avamposti, ok? Questo è uno dei tanti. Uno dei tre. Questo è quello che abbiamo visto nel trailer di ieri. Quello dove arriva la mezzaluna. Infatti è qui. Appunto lì, però la luna è normale, ci avete fatto caso? E questo forse è l'ultimo, che è probabilmente quello più grande. Tutti in zone spiaggiose. Sì, il finale di sto trailer è un po' brutto. Bella sta zona... Però, raga, scusate, questo non vi sembra il... Ma solo a me mi sembra... Portale di Stellan. Ok. Bella sta colorazione sua. È un cerchio, è boh, può dare, ma vediamo, non lo so. Tutto da scoprire. Le nuove mitragliette. No, oddio, questo è il fucile di fondazione, occhio. Non ho capito lì cosa sta ricaricando... Vabbè, perfetto. Grande YouTube che con le Premiere fa grandi lavori. Niente, impossibile vedere stoppando, ragazzi. Devo stoppare così, scusatemi. GG per YouTube. Questa l'avevamo già vista, la qualità è pessima perché è una Premiere, ovviamente. Questa roba è veramente forte per muoversi. Ottimo. E poi esplode pure male. Avete visto che c'è il lanciagranate che attacca le... I cosi esplosivi. Ok. Questo defusa gli oggetti, come avete visto. Cioè, annulla l'effetto delle torrette mobili. E non solo, credo, sinceramente. Eh, no, però è il nuovo... Non capisco, è il fucile di fondazione o è il nuovo questo qua? No, è il nuovo perché il mirino mi sembra diverso. Ma sapete che non saprei dire? Ma non mi sembra uguale. Mi sembra leggermente diverso. Magari mi sbaglio. Anche la cadenza è diversa qui. La mano vuota. Cara a te. Ah, c'è la macchina della pizza. C'è la macchina delle consegne della pizza. Guardate, aspettate. Devo uscirci sei. Guarda. Pizza Pit. La macchina di Pizza Pit. Che figo. Questo è bello. Non è molto da consegne, però... Ok, figo. E qua lui che diventa tipo tutto imbufalito. Con i super pippi intorno. Però non c'è... Non c'è il nostro fan numero uno di pipistrelli. Comunque... Top. Top. Diventa anche un po' fluo come skin. Ok. Eccolo qua. Questa è tutta la sua brutte... Oddio che brutte... Mi fa troppo impressione che ha sta sorta di spaccatura che gli percorre fino all'ombelico. Dio santo. L'ansia me l'hai creata e ci sei pure riuscito bene. E poi vabbè. Qui, raga, veramente il trailer di Asuka ha appiccicato perché davvero non l'avevano pensata. È ovvio sta cosa. E... E niente. E niente. Vabbè, capita. Non so... Cioè, vabbè, va bene lo stesso. Figo. Non ci dice veramente niente di più. Peccato. Non c'è trama. E vabbè. Caruccio. Carina le cose. Ci hanno introdotto qualche arma che arriverà. Ok. Francamente quasi inutile questo trailer.